sono bovalli, no? No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai Mario, vai 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 Alessandro 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 un'occasione testa M. Matteo che richiama i ragazzi all'ordine M. Matteo che richiama i ragazzi 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 il verdiglione che morde e tra Gianfranco il giovanissimo che esordisce sempre con gli allievi dai 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 che gli scappa indietro indietro bravo non ha creduto trentacinquesimo il primo tempo sovrato 0 bovalino 0 non ha creduto 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 allora Grazie a tutti. Bandito, alza la bandiera! Vai che regolare, vai che regolare! Vai! 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 Grazie.